25 settembre 2019 Li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi Dal Vangelo secondo Luca capitolo 9 In quel tempo Gesù convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie E li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi Disse loro Non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né danaro e non portatevi due tuniche In qualunque casa entrate, rimanete là e di là poi ripartite Quanto a coloro che non vi accolgono uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni Cacciare i demoni ed operare guarigioni sono attività fortemente associate alla predicazione degli apostoli la quale consisteva nell'annuncio del regno Il regno perciò è strettamente connesso con la guarigione di ogni malattia e con l'espulsione dei demoni Negare questo significa non comprendere la natura del regno e l'opera necessaria della redenzione di Cristo Il potere sul male configura la visibilità del regno La potenza di Dio operante Il dito di Dio realizza il regno attraverso il figlio Gli apostoli sono incaricati da Gesù per una missione con un potere ben preciso ed evidente quello della guarigione e della liberazione Normalmente si tende a relegare esorcismo e guarigione in un ambito secondario ritenendoli fenomeni legati ad un tempo iniziale della Chiesa se non mitologici In realtà se distaccassimo il regno dalla liberazione dal male nelle sue forme di malattia, possessione e demonia che è morte l'evangelizzazione perderebbe della sua finalità specifica e sarebbe limitata ad una predicazione dell'amore, della pace e della solidarietà Cose queste verissime ma non certo nuove sulla faccia della terra almeno come esigenza Un tempo si dibatteva quale fosse la differenza tra la carità cristiana e filantropia quella di un umanesimo senza Dio La gratuità poteva essere di entrambe perlomeno il fine era il benessere materiale e sociale dell'uomo La filantropia divenne anche socialismo con l'aggiunta della lotta dichiarata alla Chiesa quale istituzione volta mantenere se stessa per un potere su milioni di persone In effetti violenza e soprafazione non appartengono alla Costituzione della Chiesa ed in questi regimi del socialismo reale contraddicevano l'essenza del bene Tuttavia, la carità cristiana limitata alla solidarietà con tutti in nome di un Cristo solidale ha una sua forza ma non una sua necessità A ben vedere, ora che viviamo in una società liquida e fortemente relativizzata ogni individuo può decidere da sé cosa fare o essere per sentirsi solidale col mondo I temi dei cambiamenti climatici sono alla portata di tutti e con essi molte altre filiere di bene sociale Tutto questo ed altro ancora ha una sua dignità ed una sua legittimità indiscutibile ma non costituisce il cuore della nostra fede e tantomeno l'esaurisce Perciò tra gli approcci filantropici socialisti, animalisti, ambientalisti, umanitari e quant'altro non possono essere né esclusi da nessuno né essere esclusivi di qualcuno e nemmeno della Chiesa A ben guardare nel Vangelo e nella tradizione della Chiesa i credenti sono destinatari della verità delle cose sufficiente per orientare la vita e la relazione con gli altri in nome di Dio Il Regno è l'affermazione del bene che sulla terra non c'è e il cui guasto non è riparabile con le sue forze umane La ragione del male è rivelata da Dio come una ragione prima antecedente all'uomo stesso che ha coinvolto l'uomo e l'umanità intera in una sorta di solidarietà misteriosa e più forte di quella culturale o sociale o economica Il maligno, l'omicida fin da principio ha ordito un piano sul nascere dell'umanità e l'umanità è caduta in suo potere per cui tutto questo, tutto quello che ha fatto è stato intrecciato dal male iniettato suggerito, provocato dal maligno In altre parole, l'umanità è diventata corresponsabile del male Le parole della Genesi all'inizio sono importanti perché pongono la base della comprensione di questi eventi Il peccato causato dall'ascolto del maligno causò dolore, fatica e morte per cui tutto il mondo giace sotto il potere del maligno Il bene che la Chiesa può portare gli uomini è la vita eterna la quale si consegue per la liberazione dal potere del maligno Questa promessa, realizzata nei segni delle guarigioni e delle liberazioni, dona speranza di vittoria definitiva promessa con il Regno La liberazione degli oppressi e dei prigionieri è il vero annuncio del Regno L'amore è testimonianza della misericordia di Dio china sull'umanità Il dono dello spirito di amore è la vittoria di Dio nelle anime messe in grado di amare e di risettare l'odio satanico perché liberate dal maligno Il Regno di Amore passa attraverso la liberazione dai lacci del demonio operata da Cristo Dio vi benedica